Siracusa ha denunciato due persone per furto e resistenza pubblico ufficiale. L'agente della squadra mobile ha denunciato un giovane di 27 anni e un uomo di 41, entrambi già note alle forze di polizia per il reato di furto. Nella circostanza il 41enne è stato denunciato per il reato di resistenza pubblico ufficiale. I due soggetti sono stati sorpresi con delle unità interne di climatizzazione che avevano asportato poco prima da un esercizio commerciale.